E' quello qua, dalla PCT 8, giusto dottore? Buongiorno, 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 qua vediamo i grandi fans, ciao, perfetto, il presidente della Pro Energy, eccolo la, qua vediamo i super media, i grandi media, no anche lei, anche lei non scappi perché tanto non si può scappare, lei cosa ne pensa, siamo in postazione che va bene qua, Norma, facciamo vedere qua l'esempio, no, siamo in sicurezza, guarda, un piacere c'è, sicurezza quasi perché se c'è un dritto qua, fa una rampa, sembra delle 4. Grazie a tutti. 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 senza acqua. a tutti.